Ad insospettire i carabinieri il continuo via vai dalla sua abitazione, è così, dopo un servizio di appostamento ed osservazione, è stato colto in flagrante mentre cedeva dosi di stupefacenti. In manette a Fogliano è finito un sessantenne già noto alle forze dell'ordine. Il blitz nella notte tra sabato e domenica, quando i militari, dopo ore di osservazione, sono entrati nell'abitazione. Hanno così trovato e posto sotto sequestro 50 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 75 grammi, oltre ad un contenitore e 4 involucri contenenti la stessa sostanza, 120 bustine di plastica trasparenti solitamente utilizzate per il confezionamento dello stupefacente e un taglierino per la suddivisione della droga. A Castigliano Fiorentino invece a finire nei guai un 22enne per frodo informatica. I militari, a seguito della denuncia presentata dalla vittima, hanno accertato che quest'ultima, dopo essere stata tratta in inganno da un annuncio su una piattaforma social, aveva preso accordi col giovane pattuendo il prezzo di 550 euro per l'acquisto di un telefono smartphone. La somma di denaro era stata accreditata sui vari IVAN forniti dal presunto venditore, ma la merce non era mai stata spedita ed il giovane era diventato improvvisamente irreperibile su tutti i social network.